Ciao a tutti bentornati sul mio canale, oggi voglio parlarvi del mio programma Lotto Pocket 2 Extra versione 2021. Se qualcuno di voi ha, anzi tanti di voi hanno una versione precedente è meglio che lo aggiornano perché è vero che è rimasto uguale il contenitore ma è molto migliorato l'algoritmo, è adeguato al momento attuale e sta funzionando veramente bene. Oggi vediamo come si fa a scegliere la ruota da seguire. Questo è un programma che come tutti gli altri miei software funziona con Windows, qualsiasi versione, è molto leggero, va bene anche un computer di 10, 15, 20 anni fa. Trovate qui e sulla sinistra la possibilità di aggiornare le estrazioni da internet, aggiorna da server 1, server 2, server 3, server 3 è il più veloce di tutti Una volta aggiornato da internet, come tutti i miei programmi va chiuso e riaperto, a quel punto si può fare, accedi alla videata di ricerca e si ottiene questa videata dove avete il pronostico scritto con questi numeri grandi perfettamente visibili e vi spiego un attimo come scegliere la ruota perché ecco la difficoltà può essere quella di scegliere la ruota perché il programma non vi indica una ruota migliore di altre perché tutte sono potenzialmente valide inoltre il programma dopo ogni estrazione vi calcola un nuovo pronostico quindi voi dovete prenderne uno e seguirlo le classiche 5, 6, 7 volte oppure potete prendere un pronostico di inizio mese e seguirlo tutto il mese questa è una ottima tecnica e vi faccio vedere come si fa a trovare le ruote migliori in pratica è sufficiente fare una ricerca controllando nei mesi passati quali sono state le ruote che hanno dato maggiori risultati e poi seguire il pronostico del mese attuale calcolato alla prima estrazione del mese e seguirlo insomma per tutto il mese perché se ha dato risultati nei mesi precedenti lo stesso calcolo vuol dire che è una tendenza ma voglio anche spiegarvi come si possono mettere in gioco questi numeri ma prima vi chiedo di mettere subito il like il classico mi piace iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto se volete lasciate pure un commento e cominciamo a parlare di questo programma che ripeto si chiama lotto pocket 2 extra versione 2021 vi raccomando di ottenerlo subito di averlo in questa ultima versione come si fa ad avere programma potete scrivermi su whatsapp qui a destra trovate il mio numero whatsapp e vi do le indicazioni oppure sotto nel video sotto il video nei primi nei primi commenti trovate il link che potete cliccare potete inserire i vostri dati e scegliere come come ottenere il programma potete ottenerlo oggi stesso fra dieci minuti può essere vostro attenzione utilizzate solo programmi originali non fatevi dare programma da un amico da cugino da perché a quel punto succede che se il certificato di sicurezza riconosce che ci sono due versioni identiche che stanno lavorando nello stesso momento uno qui in italia uno in australia nello stesso momento succede che il programma non si blocca ma fa vi da indicazioni sbagliate è un tipo di protezione che ho scelto io quindi attenzione e diciamo i calcoli validi l'algoritmo funziona bene solo per chi ha preso il programma esattamente dal sottoscritto non da altre persone o da o dal cugino assolutamente bene mi raccomando sempre moderazione al gioco perché la sicurezza di vincita non c'è mai oltretutto qui si parla di ambi quindi non immaginate di fare un ambo tutti i giorni perché a quel punto saremmo tutti ricchi anzi diffidate di quelli che vi dicono con questo fai sicuramente l'ambo il terno fai la guaterna e la cinquina non date retta anche fare un ambo è una cosa difficilissima difficilissima all'otto per quanto riguarda il 10 e l'otto io ho dei programmi fantastici che fanno veramente danno dei risultati mostruosi ma quello è il 10 e l'otto qui parliamo di lotto e l'otto è più difficile bisogna avere costanza pazienza bisogna usare strumenti validi come questo ma soprattutto bisogna anche capire un pochino come utilizzarli allora vi faccio vedere questo intanto il programma fornisce due numeri base per esempio in questo caso la roma pronostico calcolato l'uno giugno 2021 1 giugno 2021 prima estrazione del mese di giugno indicava 50 67 come ambate e ambo secco e poi questa quartina per fare degli accoppiamenti con i numeri sopra e anche per giocarla tutta intera come quartina per ambo eterno però attenzione facendo così ovviamente lasciamo da parte un attimo l'ambata perché chi piace chi chi ama l'ambata con questo programma veramente ha trovato un tesoro perché questi due numeri sopra per l'ambata sono su una sola ruota parliamo non sono due ruote in questo programma una sola ruota per l'ambata sono una cosa fenomenale quindi chi segue l'ambata con questo programma veramente ha una cosa molto molto efficace ma parliamo per chi segue gli ambi giocare questo ambosecco e poi tutti gli ambi che si combinano 50 e 13 50 e 22 50 e 32 poi 67 e 13 eccetera diventa un gioco di un euro qui poi quattro euro qui altri quattro euro con il capogioco 67 e siamo già a 9 euro e poi tutti quattro numeri insieme sono 10 euro che va bene si può giocare così e chiaramente quando esce un lambo la vincita è quella del lambo secco quindi 230 euro tolte le tasse sono 230 euro pulite però però cosa succede che se esce lambo nei quattro numeri sotto non sono 230 euro ma la vincita è 40 volte la posta quindi potrebbe non convenire fare tutti gli ambi secchi più la giocata dei quattro numeri sotto possiamo anche pensare di fare di mettere in gioco tutti e sei i numeri tutti e sei i numeri per ambo però chiaramente non con un euro ma mettendo tutti e dieci gli euro ecco ragionate voi su questo che cosa preferite insomma se preferite avere la vincita dell'ambo secco quando escono le combinazioni precise però la vincita ovviamente molto più bassa quando esce un ambo in quartina allora dovete necessariamente giocare tutti gli ambi separati e lambo in quartina qui sotto oppure se volete giocare tutti e sei i numeri per ambo giocando 10 euro la vincita è di circa 150 euro ogni ogni ambo chiaramente è una coperta che se la tiri da una parte si si scopre dell'altra no io sinceramente preferisco gli ambi secchi preferisco gli ambi secchi quindi io ecco quando metto in gioco questo questo sistema questo programma gioco gli ambi secchi quindi un euro su l'ambo secco qui e poi un euro su ogni ambo col primo capogioco e col secondo capogioco sui quattro numeri sotto magari ce ne metto due metto solo metto due euro invece che uno ecco faccio così potete ragionare insomma se mettere insieme tutti e sei numeri in quel caso può essere utile anche per giocare il terno no giocate per esempio potete anche fare proprio un gioco ridotto 90 80 centesimi sul lambo e 20 centesimi sul terno per non giocare più più di tanto parliamo sempre moltiplicato dieci volte quindi otto euro sul lambo e due euro sul terno ok spero che non ho fatto confusione però penso che avete capito bene andiamo a vedere ma come si scelgono i numeri qui perché questa è una cosa importante semplicemente io ho controllato tutti i pronostici di tutte le ruote vedete qui posso cambiare ruota e ho visto che a roma a roma e anche a cagliari ci sono stati buoni risultati prendendo il primo pronostico del mese di giugno e qui semplicemente cielo al primo colpo il risultato ciò mi sono usciti tre numeri 32 50 67 quindi in questo caso ho vinto ho vinto 4 ambi addirittura giusto perché vincerei 50 67 e poi vincerei 50 32 e 67 32 scusate tre ambi 50 67 e ovviamente se avessi giocato tutti e sei i numeri insieme eccolo dove potrebbe stare il vantaggio giocando qualcosa per per il terno avrei preso proprio il terno il terno in cestina paga abbastanza terno che non ho in questo caso perché ovviamente c'è solamente i tre ambi avendo giocato avendo giocato le combinazioni con il capogioco bene comunque roma ha dato questo risultato andiamo a vedere questo è il primo questo è il risultato del primo colpo vediamo se uno fosse andato avanti sto andando avanti qui vedete quarto colpo quinto sesto settimo ottavo nono diecimo 11 e dodicesimo siamo al 29 giugno e basta ecco ci sono dodici colpi disponibili no perché il la prima estrazione del mese quella di calcolo quindi roma mi ha dato questo risultato ma andiamo a vedere adesso sposto la data dell'estrazione di calcolo quindi vado avanti fino alla prima di luglio ok questa volta prendo la prima estrazione di luglio mentre prima ero alla prima di giugno vedo se roma mi ha continuato a dare risultati alla prima estrazione di luglio quindi questo è il pronostico basato sulla prima estrazione di luglio vado avanti 1 2 3 4 5 6 7 ecco al settimo colpo ho Lambo in quartina attenzione questo è quello che vi dicevo prima ok che non essendoci un capogioco Lambo è in quartina quindi paga di meno paga 40 volte la posta per questo che dicevo in caso che giocate così qua sulla quartina magari uno ci mette un euro in più ok se aveste giocato tutta la sestina avreste comunque preso Lambo è preso anche 150 euro perché mettendo 10 euro sul sul Lambo perché da dove viene fuori 150 euro con sei numeri quanti ambi si combinano è molto semplice si fa 6 per la quantità di numeri meno 1 quindi 5 6 per 5 30 diviso 2 15 quindi con sei numeri si combinano 15 ambi per cui se io gioco 10 euro ok e Lambo mi darebbe Lambo secco mi darebbe Lambo secco mi darebbe 200 scusate con 10 euro 2500 euro no? diviso 15 che sono la quantità di ambi che si sviluppano quanto viene? lo faccio qui con la calcolatrice 2500 diviso 15 fa 166 e rotti 166 euro togliamo l'8 per cento di tasse meno 8 per cento viene fuori 153 quindi Lambo con 10 euro Lambo in sestina paga 153 euro in sestina ok se l'avessi giocato nella sestina mettendo 10 euro se lo gioco con solamente sulla quartina ma mettendo un solo euro prendo molto di meno ok con quanti ambi si sviluppano con 4 numeri? è facile 4 per 3 12 diviso 2 6 quindi si sviluppano 6 ambi quindi dovete fare con un euro no? 250 euro che sarebbe la vincita diviso abbiamo detto che sono 6 diviso 6 viene fuori 41 euro togliamo anche qui l'8 per cento di tasse viene fuori 38 euro quindi un euro sulla quartina me ne da 38 ok qui ci deve ragionare insomma se si vuole giocare in sestina mettendo tutto l'importo delle giocate sulla sestina oppure insomma come abbiamo detto un euro su ogni ambi e magari 2 euro sulla quartina perché così invece che 38 euro prendo il doppio e adesso visto che abbiamo individuato la tendenza la tendenza su Roma quindi il primo pronostico del mese di giugno mi ha dato quella bella vincita che abbiamo visto prima poi il primo pronostico del mese di luglio mi ha dato quest'altra vincita che ho visto adesso al settimo colpo come si fa? si va a prendere e questo lo farà chi ha il programma va a prendere il pronostico basato sulla prima estrazione di agosto ok chiedete adesso questo programma per avere il pronostico basato sulla prima estrazione di agosto che ve lo anticipo ancora non ha dato niente siamo al quinto colpo quindi c'è possibilità che dia qualche cosa quindi da seguire c'è Roma adesso facciamo la stessa cosa con Cagliari che ho visto che ha funzionato lo stesso quindi siamo alla prima estrazione di giugno mi sposto a Cagliari ecco qua c'ho qui sulla destra i risultati sempre faccio primo colpo niente secondo niente terzo c'è lambata quarto quinto sesto settimo ottavo nono al nono colpo c'ho lambo ok prima vi ho detto che si gioca per 5-7 colpi ma se partite dalla prima estrazione del mese e volete fare questo tipo di gioco va bene seguila per tutto il mese Cagliari ha dato risultato ok al nono colpo ma attenzione ragazzi stiamo parlando di ambi su ruota singola che non sono facili per niente Cagliari ha dato risultato al nono colpo andiamo avanti ancora vediamo e basta nono colpo ok adesso ci spostiamo alla prima estrazione di luglio luglio siamo sempre su Cagliari questo è il pronostico di luglio guardiamo se ci sono risultati in questo caso ce l'abbiamo al primo colpo quando ce l'abbiamo al primo colpo è il top perché abbiamo speso pochissimo e abbiamo subito il risultato secco qui avremmo speso davvero il minimo il minimo e avremmo subito avremmo con 2 m avremmo avuto subito il risultato di ambo secco 57 57 Cagliari 230 euro pulite ok quindi insomma Cagliari sta andando bene vediamo se dopo ha dato qualcos'altro lambatele da sempre tutte e due le ha date ok e basta così e insomma anche Cagliari è valido e anche Cagliari anche per Cagliari va preso il primo pronostico del mese di agosto che ancora non ha dato nulla ancora non ha dato nulla quindi potete andare al 3 agosto prendere il pronostico di Cagliari e portare avanti Cagliari e Roma giocando poco perché la sicurezza non la possiamo avere questo è un metodo poi se ne trovate altri per esempio un altro metodo potrebbe essere quello di vedere di giocare la ruota che sta dando meno risultati cioè le ruote ci sono sempre un paio di ruote che non hanno dato né ambi ma neanche le ambate quindi in quel caso quante ruote danno quante ruote danno risultato di solito gli ambi diciamo che vengono pagate da 5-6 ruote le ambate da 8 ruote ci sono comprese quelle degli ambi ci sono un paio di ruote che non danno proprio niente niente allora in quel caso magari se una ruota non ha dato niente a luglio potrebbe essere anzi quasi sicuramente va a recupero o almeno con l'ambata va a recupero nel mese attuale comunque in questo caso in questo video abbiamo visto come si possono seguire le due ruote che stanno andando meglio e queste stanno andando meglio veramente perché oh questo ho visto qui ah beh un altro ambi qui mi sposto fra i vari pronostici quello che abbiamo visto che è interessante e la cosa più bella di tutti è stata questa vincita dove prima sbagliando ho detto 4 ambi chissà dove è venuto fuori quel 4 sono 3 ambi ovviamente ma soprattutto ci sarebbe stato il terno se giocavo tutti e 6 numeri come vi ho spiegato oggi l'ho fatto un pochino lungo questo fatto dei giochi 6 numeri 4 numeri 2 numeri insomma spero che l'avete capito ottenete questo programma che è uno dei miei migliori algoritmi fare meglio è veramente difficile e vi ringrazio per l'attenzione ancora vi raccomando di mettere il like e ci sentiamo in una prossima occasione se volete grazie a tutti ciao 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 ciao